Grazie a tutti. Con l'appello, quindi Pettica Ramaglio, Bucci Manolo, Vigori Sergio, Pettica Ramagliano presente, Turulli Daniele, Mantozzi Paolo, Angelino Gusto, Aromedino, Riccilelli Alberto, Vigori Emerico, Costantini Giuseppe, Perugini Vito, Alessio Michela, Ciavaldini Umberto, Platini Erminio, Paolo Meloni, Vigori Emerico, Angelini Fricetto, Bucci Giuseppe, Geraglio Lideano, Maurizio Genove. Grazie. 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 Grazie.